Ciao a tutti, qui da Andrea Paolo Cento. Oggi vediamo come installare gioco già craccato, Dear Hunter 2014, il gioco di caccia e installarlo su dispositivi Android, smartphone, quindi tablet che sia un Android. Non serve root e quindi incominciamo subito. Allora, questo file che è l'installazione del gioco già craccato, lo scaricate da Mediafire che lo sto uploadando adesso il file. Quindi attaccate il cellulare con la USB, come ho appena fatto, andate dentro il cellulare, quindi il phone qua e mettete, dobbiamo mettere l'installazione in una cartella dove dopo andremo a prendere il cellulare attraverso l'archivio. Quindi io ad esempio la metto in games perché la metto in games perché so che dopo riesco a trovarla. Quindi la copiamo, la spostiamo, io la copio se mi serve ancora. Per parte computer è finita qua, adesso andiamo a vedere come procedere dal cellulare. Ok, passate da parte cellulare, prima di tutto, prima di andare a installare il file andiamo a controllare in impostazioni, andiamo in sicurezza e dovete vedere qua, sorgenti sconosciute, vedete, consente l'installazione di applicazioni non provenienti da R-Market, se no lui non ci farà installare appunto il gioco. E spuntate. Poi per installare il gioco andiamo in archivio, dovete andare dove l'avete salvato, vedete l'archivio, avete tutte le cartelle, io l'avevo messo in games e quindi ce l'ho qua in games. Clicchiamo, facciamo installazione pacchetti e qua facciamo installa. Ok, applicazione installata, facciamo fine, andiamo indietro e ce la troviamo qua. Vedete, adesso proviamo anche a aprire il gioco. Ci metterà un po' ovviamente, come al solito, ricordatevi quando lo aprite di spegnere sia la wifi sia la 3G, qualunque connessione internet, quindi perché altrimenti non va. Ok. Adesso si apre, ecco. Quindi facciamo, proviamo dai, facciamo gioca. Adesso ci da la prima missione, facciamo inizia. Sempre il primo tutorial sul primo sparo, così sulla prima missione. Ok. E adesso vedete, ok, ho tutta la ricaccia completata, facciamo avanti. E vedete, potete notare, aspettate un secondo, acquistiamo il fucile, chi se ne frega. Ok. Notate qua, quanti soldi che abbiamo. Sono davvero tanti, non credo mai che li finirò. E il tutorial finisce qui. Ci vediamo al prossimo episodio.